A distanza di qualche giorno dall'annuncio dell'SD Pratola Calcio, un'altra società ha già iniziato la sua avventura in terra pratolana, i Nero Stellati Futsal di Pratola Peligna. I Nero Stellati scendono in campo, ma quello di Calcio a 5 è il Futsal, affiliato alla FIGC da qualche mese. In questi giorni sta ultimando le pratiche per l'iscrizione al campionato di Serie D. Il presidente Rocco Presutti con il suo team di tecnici si propongono di dar vita a una nuova realtà calcistica nel segno del Futsal che sia in grado di coinvolgere tutti i giovani del territorio, ma soprattutto di essere un riferimento di aggregazione e condivisione di esperienze sportive, promuovere il territorio anche attraverso questa disciplina del calcio, avere consapevolezza che nella ballata sono presenti talentuosi calciatori da scoprire che potrebbero regalare soddisfazioni e successi.